La Cipolla Bianca di Sernia è un patrimonio non solo da un punto di vista produttivo ma anche culturale e quanto emerso dall'interessante convigno tenutosi presso il municipio. Mai come quest'anno abbiamo avuto tanti attori che sono scesi in gioco, in primis il Comune che ci sta dando una mano, oltre che il Comitato Centro Storico che ha organizzato il primo festival della Cipolla, una novità nel panorama Pentro, e noi come associazione stiamo cercando un attimino di raccogliere quante più adesioni possibili tra i produttori di cipolla in modo tale da creare un volume di produzione cospicuo che ci permetta di arrivare oltre i confini regionali. A fronte di un incremento di produttori però l'offerta resta sempre inferiore rispetto alla domanda. Purtroppo oggi siamo ancora al di sotto, complice anche l'annata che non è stata favorevole, che ha determinato una perdita almeno del 40 se non 50% delle produzioni. non riusciamo ancora a soddisfare quelle che sono le esigenze del mercato. La promozione della cipolla di Sernia passa anche attraverso una serie di iniziative di carattere culturale. Sì, quello è sicuro. La dimostrazione è la prima festa della cipolla organizzata come prologo alla tradizione della Fiera delle Cipolle, quindi è intenzione di questa amministrazione sicuramente valorizzarla anche dal punto di vista culturale. Non solo benessere perché la cipolla bianca di Sernia ha nella sua duttività in cucina una delle caratteristiche principali. È una delle più buone che ci sia almeno nel panorama del centro-sud d'Italia, la caratteristica ovviamente è la sua pezzatura che mediamente si attesta tra i 400 e i 500 grammi, colorazione bianca, è piatto ovviamente tutti quanti lo sappiamo, ed è una cipolla molto dolce che quindi non lascia un sapore sgradevole alla bocca ed è molto duttile nella lavorazione anche di prodotti quali sottoli, confetture. Ma cosa rende la cipolla di Sernia così speciale? La cipolla di Sernia è coltivata da secoli, se non millenni, in questo comprensorio, per cui ha avuto un adattamento, una selezione e riesce a esprimersi in termini di qualità in modo eccellente in questa zona. La cipolla e la fiera sono in qualche modo un binomio indissolubile, la tradizione fieristica a Sernia è molto antica, come ha spiegato il demologo Mauro Gioielli. L'origine delle fiere è antichissima sicuramente, anche se poi gli studiosi per alcuni decenni hanno fatto iniziare lo studio delle fiere, e quindi l'origine delle stesse dalla morte di Federico II, stiamo parlando del 1250, quindi in epoca medievale, ma questo per una comodità di analisi. Grandi fiere si tenivano già all'epoca romana per intenderci e credo che anche la fiera di Sernia sia antica di almeno 1500 anni, perché è legata al culto di San Pietro, quindi al culto della Chiesa Madre, la nostra cattedrale. Il legame poi fra questa fiera e le cipolle è abbastanza tardo, nel senso che il primo documento che ce ne parla in modo concreto, esplicito e caratteristico risale al 1858.